Nuovo passo in avanti per la bonifica dell'ex isochimica di Borgo Ferrovia, la fabbrica dei veleni di Avellino dove gli operai scoibentavano l'amianto a mani nude dalle carrozze ferroviarie. È stata pubblicata la procedura di gara aperta a tutti gli operatori economici che ne hanno i requisiti. L'affidamento riguarderà i lavori e i servizi necessari per la movimentazione, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato dei 497 cubi in cemento contenenti amianto depositati nell'ex stabilimento di Borgo Ferrovia. Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'importo complessivo dell'intervento, pari a poco più di 3 milioni 482 mila euro, dei quali 2 milioni 710 mila euro per lavori e sicurezza, è stato finanziato dal patto per lo sviluppo della regione Campania del 24 aprile 2016. Intanto a Napoli prosegue il processo per stabilire la verità sulle morti sospette degli operai. Dopo l'udienza dell'ex commissario straordinario del comune Cinzia Guercio, che ha dichiarato i dirigenti comunali mi dissero che dovevamo solo fare monitoraggi e che la bonifica aspettava ad altri, si tornerà in aula il 6 luglio quando saranno ascoltati i primi consulenti della procura, i professori Moscato e Ricciardi dell'Università Sacro Cuore, autori dell'ampia relazione sul nesso di causalità tra le malattie contratte dagli ex operai e l'amianto inalato nella fabbrica negli anni 80. Grazie. Grazie.